Un saluto a tutti i lettori di GizChina.it, io sono Gianluca Cotroneo, responsabile open market per ZTE Italia e siamo qui per presentare la nostra gamma di prodotti non solo che saranno lanciati in Cina ma anche lanciati in Europa, in particolare in Italia. Il dispositivo che andiamo a presentare in questo caso è lo ZTE Blade L3, uno smartphone con display da 5 pollici che monterà in Italia una versione di Android Lollipop, quindi la 5.0 e non la KitKat come invece è presente su questa scheda tecnica perché fa riferimento al prodotto a livello internazionale. Per quanto riguarda l'L3 si tratta di un prodotto che ha appunto un display da 5 pollici con definizione di FWGA, un processore di Mediatek molto molto affidabile che nel 2014 ha avuto un grande successo, ossia il 6582M, un processore quad-core da 1.3 GHz. Per quanto riguarda la memoria del dispositivo, l'L3 monta una RAM da 1 GB più 4 di ROM, ovviamente espandibili tramite microSD. Per quanto riguarda il comparto della fotocamera, il cellulare monta una camera principale da 8 megapixel e una camera da 2 megapixel per il famoso selfie perfetto.